Si può resistere 53 anni in prigione? Oggi è difficile anche solo pensarlo, ma la storia di Giulio d'Este è esemplare e ci riporta un'epoca in cui le pene erano terribili, anche per i nobili, figli di un duca fra i più importanti d'Italia. Giulio d'Este era un figlio illegittimo, ma questo non era un problema ai tempi, era un'eventualità del tutto comune. Nasce nel 1478, figlio del duca di Ferrara, Ercole I d'Este, e di Isabella Arduino, nobile donna, a sua volta. Giulio ha un piccolo esercito di fratellastri con cui si trova a condividere gli spazi e la corte della Ferrara dell'epoca. Il nostro Giulio è un ragazzo simpatico, ben voluto sia dal padre Ercole sia da sua moglie, la duchessa Eleonora, ma tra fratelli le invidie e gelosie sono all'ordine del giorno. Alcuni di loro sono a corte come Giulio, Alfonso I, Isabella e Lucrezia, mentre Beatrice e Ferrante sono lontani a Napoli. Dopo di loro nascono Sigismondo, Alberto e Ippolito, e proprio l'ultimo sarà alla base dell'incredibile vicenda umana di Giulio. Siamo all'inizio del Cinquecento, nel 1504 per la precisione, e Ippolito vuole a tutti i costi per sé il musicista Don Reinaldo da Sassuolo. Reinaldo era arrivato a corte in occasione della malattia di Ercole I, ma Ippolito lo fa imprigionare nella Rocca del Gesso, presso il conte di Scandiano Giovanni Boiardo. Passa qualche mese e a maggio del 1505 Giulio scopre dove si trova Reinaldo e, insieme al fratellastro Ferrante e con alcuni loro uomini, lo libera. Al suo posto nella cella mette il castellano stesso, il conte Boiardo. Nel mentre, per la precisione, il 25 gennaio del 1505 è morto il padre dei fratelli, Ercole I, e gli è succeduto Alfonso, marito della celebre Lucrezia Borgia. Ippolito si lamenta per la questione di Reinaldo con il nuovo duca e questi non solo non lo pulisce, ma se la prende proprio con Giulio e Ferrante, che fa esiliare a Brescello e Modena. A Brescello non ci sono ancora Don Camille Peppone, e Giulio si annoia a morte. A parte le battute, Lucrezia Borgia e Isabella d'Este riescono a intercedere presso Alfonso, che libera i due esiliati. Ma questa era solo una prima visaglia del potere e della diabolicità di Ippolito. Giulio e Ippolito non si stavano simpatici, e vabbè, ma hanno anche la splendida idea di innamorarsi della stessa donna, la cugina di Lucrezia Borgia, Angela Borgia, la quale preferisce Giulio a Ippolito e questi non si dà pace. Angela a un certo punto dice al cardinale, anche solo gli occhi di Giulio valgono di più di tutta la tua persona. Oppure gli dice che gli occhi di Giulio sono bellissimi ed è per questo che le piace, noi questo non lo sappiamo. Ma Ippolito non capisce più niente dalla rabbia, questo lo sappiamo per certo. Il 3 novembre del 1505 Giulio sta facendo un ritorno da una gita a bella al riguardo e trova sulla sua strada gli scagnozzi di Ippolito che hanno ordini precisi, ucciderlo e cavargli gli occhi. Non si sa di preciso quel che succede a quel giorno, chissà chi ha pagato chi e chissà perché. Comunque il risultato è che i servi di Ippolito riescono a cavare soltanto un occhio a Giulio e naturalmente non lo uccidono, ma in tutti i casi Ippolito non paga nulla per il suo gesto, anzi, a dicembre di quello stesso anno i due fratellastri si riappacificano formalmente alla corte di Alfonso. Ma Giulio quell'occhio cavato proprio non lo manda giù, per di più per colpa di una donna, e anche perché il nuovo duca Alfonso non ha preso le sue difese ma lo ha costretto alla pace formale con Ippolito. Nel 1506 decide di farla finita con il potere di Alfonso e organizza un complotto volto a far diventare signore di Ferrara l'altro fratellastro Ferrante. Una notte aspettano il duca appostati tra le vie della città. A quel tempo evidentemente non si era tanto essicaci con le esecuzioni e quando Alfonso passa i pugnali avvelenati non riescono a fargli niente, lo mancano addirittura due volte. Giulio e Ferrante hanno fallito l'attentato e Giulio scappa a Mantua dai Gonzaga che avrebbero dovuto proteggerlo dalla vendetta di Alfonso. Il suo esilio presso i Gonzaga era stato consigliato da Lucrezia Borgia e Isabella, ma alla fine risulta poco efficace. Quando Alfonso minaccia di marciare in armi verso la città, Francesco II Gonzaga lo consegna, non vuole avere problemi. È stata un'estradizione abbastanza semplice, senza spargimento di sangue. Giulio e Ferrante in teoria dovrebbero finire condannati a morte, ma Alfonso non ha cuore di farli ammazzare e li grazia, confiscandone i beni e li fa rinchiudere nella Torre dei Leoni del Castello Cittadino. Non ha cuore oppure preferisce farli marcire in galera, dipende dai punti di vista. È il 1506, Colombo è arrivato nelle Americhe soltanto 14 anni prima. E qui, si pensa, potrebbe finire la storia. Finisce per Ferrante, che muore in prigione nel 1540 dopo 34 anni, mentre Giulio, 53 anni dopo che era entrato, nel 1559 viene liberato dal pronipote Alfonso II d'Este. Il bel Giulio ha vissuto in una cella minuscola per oltre mezzo secolo, è vestito alla moda d'inizio Cinquecento ed esta stupore fra i passanti. Vi racconto la cosa come la descrive Girolamo Merenda quasi 40 anni dopo nel 1598. Et era stato in prigione 53 anni, 6 mesi e 17 giorni. Et chi non era vecchio e sapesse ben le cose della corte, non sapeva la prigionea di questo signore. Et io per me, che avevo pur 19 anni, non lo sentei mai nominare come se non fosse mai stato a questo mondo e mi parse, come anco agli due terzi di Ferrara, che venisse dalla più estrema parte del mondo che sia. Giulio sembrava un alieno, tanto era diverso dai ferraresi del tempo. Venisse dalla parte più estrema del mondo che sia, dice Girolamo, forse si riferiva alla Cina, immagino non alle Americhe, scoperte ormai più di un secolo prima. Giulio d'Este muore due anni dopo la sua liberazione, alla venerandissima età per l'epoca di 83 anni, dopo aver vissuto un'esistenza avventurosa per i suoi primi 28 anni di vita ed essere stato in prigione per il successivo mezzo secolo. E' stato sepolto accanto al padre e ai cugini Niccolò III, Leonello e Sigismondo. E' Ippolito d'Este alla base della prigionia di Giulio. Il cardinale fu uno di quei personaggi che oggi potrebbero sembrarci solo spregiudicati e avidi, ma che in fondo furono uomini del loro tempo. Fu un fedelissimo di Alfonso I tanto che riuscì a guidare alla vittoria le truppe ferraresi contro Venezia nella battaglia di Polesella e per tutta la vita affrontò difficoltà in mani nei suoi rapporti con il papato, scappando spesso in Ungheria quando tirava una brutta aria. Morì molto prima del fratellastro nel 1520 dopo un'esistenza avventurosa che di Cristiano non aveva molto. Ma d'altronde era l'epoca in cui erano papi personaggi come Alessandro VI Borgia e Giulio II della Rovere. Da Ippolito, figlio del focoso Ercole I d'Este, non potevamo attenderci molto altro. Grazie a tutti! Grazie a tutti!